Il terzo anno che portiamo avanti questo progetto, in genere non è facile riunire un po' tutte le scuole di danza e proprio concordare e mettere su uno spettacolo. Noi per il terzo anno in partenza ci siamo riusciti proprio per dimostrare che in effetti lo sport e socializzazione è proprio nello sport che si deve stare insieme e il motto di questa serata è proprio l'Unione fa la danza. Siamo presi...